È una buona notizia il fatto che possano ripartire i lavori perché lì c'è stato contenzioso con la dita che si era giudicata i lavori con l'ultima gara e risolto a favore dell'amministrazione comunale. Quindi ora siamo in grado con le opere pubbliche, l'assessore Belloni sta seguendo questa cosa nel dettaglio, di rimodulare il progetto e fare una nuova gara per poter procedere con il completamento dei lavori. Lavori che prevedevano degli uffici, quindi così sarà, l'ex tribunale ospiterà degli uffici della città in modo da poter ridurre gli affitti che il comune paga in giro nei vari palazzi, accorpare molto di più e ravvicinare i servizi tra Piazza del Popolo, Via Manzoni dove ora c'è una serie di uffici pubblici e appunto l'ex tribunale. Quindi risposta importante anche per fare rivivere via San Francesco, quella parte di città che un po' ha sofferto dalla chiusura del tribunale da quando si è poi spostato in Piazzale Carducci. A parte questo ovviamente è una destinazione importante e individuata visto che l'ex convento è molto grande e quindi al piano primo verranno ospitate le moto acquistate dall'ASI assieme al Ministero dei Beni Culturali della collezione Morbidelli. Le moto più storiche, quelle che non potevano anche per leggere essere vendute come un'altra parte della collezione, di quelle più moderne, con più storia, andranno a costituire questo nucleo di Museo Morbidelli all'interno dell'ex tribunale e assieme a queste, sempre al primo piano, anche una collezione importantissima donata dalla famiglia di Loriano Sguanci, dall'archivio di Loriano Sguanci e che rappresenta le sculture più grandi, anche quelle più imponenti diciamo, e che è un corpus di quasi 40 opere che andranno quindi a impreziosire il percorso di visita del palazzo e quindi anche diventare un ulteriore elemento di attrazione per questo fantastico contenitore. I tempi non saranno immediati ma neanche lunghissimi, nel senso che contiamo di poter far partire la gara nelle prossime settimane, il progetto gara nelle prossime settimane, quindi un avvio dei lavori nel 2021 per un anno e mezzo più o meno di lavori saranno necessari perché ovviamente è sempre un palazzo storico delicato, però diciamo sarà più una questione di regolamento impiantistico per queste nuove funzioni in modo che appunto questo importante contenitore torni a vivere e sia un altro importante contributo alla vivacità e anche all'economia del centro storico.